Ed eccoci con l'ultima parte di Team Forza 2 in cui vi spiegherò le classi di supporto, il primo di tutto è il medico. Il medico non c'è tanto da dire. Come Erma ha questo simpaticissimo lancia... lancia siringa e manetta, che in sé per sé non fa un cazzo. Ha una sega, può colpire i nemici da vicino, ed ecco la sua parte forte. Il simpatico... ma non è possibile che cada su un pyro! Ma no, dai! Vabbè, fail. Ha questo aggetto che cura i compagni. In basso a destra potete vedere l'ubercarica. Allora, vedete cos'è l'ubercarica? Beh, l'ubercarica rende il medico e il soggetto in cui sta arrivando il raggio molto più potenti. E per molto più potenti tendo immortali per una durata di tempo limitato, finché è attivo l'ubercarica. Allora, fatemi un attimo caricare. Sono a cin... vabbè... ma va a cagare. Non vedrete l'ubercarica, scopritevela da soli com'è l'ubercarica. Adesso appena faccio fuori quello stronto, anzi non ho curto sto stronto qua dietro. Vabbè, vaffanculo. Ed ecco la classe per eccellenza in questa mappa che io preferisco, il cecchino. Beh, cosa c'è da dire il tanto di un cecchino? È un cecchino. Fucile da cecchino, con cui puoi camperare da lontano i nemici in arrivo. Una simpatica mitraglietta per i scontri ravvicinati. E questa simpatica... Vaffanculo. Oh, maledetto lag, e ripeto sempre per la terza volta. Anzi, trentesima volta. Un simpatico... un simpatico macete. Che è molto più che utile da vicino. Perché il macete fa veramente danno. Ma veramente danno. Uhlala, l'ho beccato. Ok, mi pare di aver detto tutto del cecchino. Che c'è da capire? È un cecchino! E passiamo all'ultima classe, cioè la spia. La spia, una pistola. Un simpatico coltellino da vicino. Il distruttore di mini torrette. E compagnia bella dell'ingegnere. E infine il travestimento. Esattamente. La spia non è per niente potente. Ma si traveste... Come i nemici. Quindi posso mimetizzarmi da nemico. Arrivargli da dietro. Tranquillamente, tranquillamente. E infiltrargli nel deletano. Il mio simpaticissimo... Coltello. Ma non... Che cazzo è stato? Mi hanno sgamato, fuck. Vabbè. Stavolta è colpa mia. Niente è colpa del lag. Sono un nubo. In questo momento sono stato molto nubo. Ok. E dicendovi la classe della spia. Ho finito la guida delle classi... Di Team Fortress. E ne vado fiero. E così posso salutarvi. E posso augurarvi buona fortuna per il futuro. E ci vediamo in qualche mio prossimo video. Dei Let's Play. Ciao a tutti. E continuerò a giocare qui finché non sblocco qualcosa. Ciao.